buongiorno a tutti quanti, bentornati sul canale ciao siamo sotto i giardini reali perché siamo andando a fare un giro in centro non c'è nessuno no, vabbè sono le 9 di domenica e non abbiamo la mascherina perché Manu dice che non è un piegatorio fuori nei locali sì nei locali sì, quindi poi vi facciamo vedere anche le mascherine nuove perché mi dà fastidio perché prende meno no, prendi te poi esclusi te io parlo e faccio la voce fuori campo ok, dopo c'è fuori campo amore è spumoso boh, non si può fare perché? non lo so, non si sposta perché mi piace no, è perché c'è il trap perché c'è il trap su di me e niente ragazze, quindi andiamo a farci un giro in centro vediamo un po' se c'è qualcosa di carino ups, flor di luce ok e niente, ci vediamo un po' su così vediamo di capire come mai non prendersi il busto mamma mia ecco ragazzi quindi ho fatto un bel giro di busto quindi lo posso comprare quindi mi spiace mi spiace mi spiace che lascia molto carina fra questa tra quest'anno non dobbiamo comprare niente però oggi a pranzo abbiamo anche gli agnellottini no però un salamino io me lo faccio bene ma tu ti direi un po' di contante ce l'ho ma qua è che serve 1 euro 2 a rimirti lì bio allora ragazze noi siamo in macchina vi avvicino un po' se non si senti niente perché stiamo andando dai miei genitori a fare pranzo che poi devo dargli una mano a fare alcune cosine aspettate che mano come al solito è ok devo dargli una mano a fare delle cose e poi abbiamo soppato perché faceva caldo abbiamo messo l'aria condizionata aspettate che vi faccio vedere sempre mano se riesco a girarlo ok e niente vado a farvi vedere una cosa molto molto carina la mia nuova mascherina guardate aspettate lo posso fare mi piace mi piace questo motivetto praticamente ci sono dei fiorellini adesso la tolgo perché sennò muoie di caldo aiuto è così adesso si è un attimo l'ho leppato leppato perché ha perso la mia faccia un fuoco se riusciamo a prenderla dovresti mettermi in campo largo e poi la puoi vedere alla volta sì allora sì va bene ok e niente comunque dicevo che è una mascherina che ha fatto una amica di sua mamma in tessuto dentro c'ha il pezzettino per madonna sto track togliere un attimo mettilo in forma voglio mettere di fisso no no tanto non faccio più vedere la mascherina e praticamente vabbè la sua è questa qua così tanto c'è il mio viso quindi non dovrebbe spostare il track è fatta così e qua sopra c'ha il coso di ferro che è ferro non so come un fil di ferro per metterla giusta al naso quindi prende bene bene tutto qua io che ho gli occhiali comunque va sotto quindi non rischio di appannare tutto che questa è una cosa buona per soprattutto l'inverno quando farai avanti dietro sì ci sarà ancora perché secondo me andremo avanti ancora un po' un po' sì quindi almeno con la storia delle mascherine e poi credo che ne prenderemo altre due perché sua mamma ne ha un bel po' sì le ha acquistate un po' non so se le ha acquistate o gliela comunque non le mette in vendita in realtà l'amica di sua mamma le fa soprattutto per gli amici per i familiari sono carine carine quindi volevo farvi vedere la mascherina nuova lavabile è tanto tanto caldo cioè siamo davanti no a fianco a porta siamo a fianco a porta sotto sotto il grattacielo della San Paolo sì lo faccio vedere il grattacielo della San Paolo il grattacielo della San Paolo quindi per chi non è di Torino questo è un felice portasusa bel bel posto da visitare quel posto di portasusa sì portasusa dentro è molto carina dentro nel grattacielo io sinceramente non ci sono mai stato quello mi piacerebbe andare su 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 in cima deve essere bello comunque ragazze mi hanno ieri andato in farmacia perché avevo mal di testa e male alla cervicale a prendere la tachipirina alla fine è uscito anche è uscito anche con il voltaren quindi stiamo provando a mettere il voltaren ogni 12 ore per vedere se mi passa la cervicale perché ho malissimo male 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 quindi sto cercando di mettere quello sto prendendo il magnesio perché avendo la pressione bassa mi sento sempre moja il mag 2 il mag 2 e quindi siccome magna ne ha in più lo sto lo sto prendendo anch'io però vedete che non mi prende male ma mi importa parla tu poi quando servo io mi inserisci in campo e niente no voglio solo dirvi questo oggi a luna esce il video che voi questo video vedete domani se riusciamo se è completo se c'è tanta roba da mettere perché se no vlogheremo ancora un po' esatto domani sì se non arriviamo a un minuto o domani o martedì decente ma domani vlogheremo di sicuro perché dobbiamo andare a fare la spesa e allora martedì io sono scombinata tanto ho caldo tantissimo siamo in macchina stiamo andando a casa siamo stati fino dai miei adesso che sono le 5 fa caldo 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 sì in macchina ci saranno 36 37 gradi perché è nera ed era il sole tanto si muore cioè io ho la pressione anche bassa e dicono che quando prendi caffè o bevi un po' di vino la pressione si alza io l'ho misurata dai miei e avendo preso due caffè e aver bevuto un po' di vino era 55 100 55 100 un buon pomeriggio tutti quanti allora stiamo andando a fare la spesa di frutta e verdura a orba sano come al solito siamo già andati a fare la spesa all'euro spin però poi non siamo riusciti a farvi vedere la spesa perché c'è stato un piccolo problemino quindi abbiamo messo a posto quindi vi faremo poi vedere un po' così e non abbiamo preferito abbiamo preferito dire non lo facciamo vedere facciamo più vedere poi l'altra si vi facciamo vedere la frutta e la verdura che tanto stiamo andando adesso a prenderla fa caldissimo sono le 4 io chiudo gli occhi ma per il semplice motivo che ti devo comprare un paio di occhiali mi da fastidio al sole o quei cosini che metti sugli occhiali non lo so comunque mi da fastidio al sole con poi comunque questa cervicale che hanno detto che con il caldo ancora peggio sto mettendo il voltren però comunque lo sento non è che non sento niente lo senti cioè il voltren funziona si funziona però comunque secondo me troppo tempo che io la cervicale quindi te la tutisci ma proprio togliertelo togliertelo è un po' però da non riuscire ad avere il mal di testa ogni 20 minuti poi dipende perché ad esempio adesso lui ha acceso l'aria condizionata e lo sento sul corpo non sono un amante dell'aria condizionata però almeno si sta freschi fuori l'aria bollente però fa caldo poi queste ore sono micidiali solo che abbiamo la macchina solo oggi e essendo lunedì c'è scritto che arriva solo pomeriggio quindi per forza dovevamo andare adesso quindi dobbiamo approfittarne un po' esatto con il mio padre prima mi ha detto se vogliamo passare da loro prendere un caffè dopo vediamo vediamo tanto non abbiamo niente di super freddo si dobbiamo andare poi a casa però si però piuttosto possiamo ancora prenderci possiamo portare dentro la roba così non sta il caldo esatto quindi vediamo un attimino ne prendiamo un quintale e niente volevo solo dirvi che cambierà la programmazione quindi sarà il martedì esatto il giovedì e il sabato perché abbiamo proprio visto che facciamo davvero fatica a far uscire tre video a settimana quattro quattro video a settimana scusate e poi essendoci domenica lunedì vicino è un casino non ce la facciamo quindi preferiamo magari farvi qualcosa di più carino magari io giovedì mettiamo un video tipo voglio fare what I did in a day quindi magari lo mettiamo giovedì o giovedì il video spesa non ho ancora capito bene cosa dobbiamo ancora programmare bene bene e quindi vediamo però cambia si cambia la programmazione per adesso tre video a settimana più avanti non lo so se saranno sempre tre o passeremo poi a due video a settimana questo è un'incognita e scusate che devo dipende sempre dal dal fatto ragazze che aspettate non ce la fa mettere non importa non importa dipende molto da come si evolve la situazione capire un attimino cosa le solite cose che diciamo nei video perché è proprio un momento di stallo in cui non si sa ci sono complicazioni a volte bisogna risolverle esatto vedere ancora delle cosine quindi non è proprio adesso vediamo se riusciamo ad andare magari a fare dei giri da qualche parte adesso con mio papà si stava pensando di andare aspettate io e mio padre vorremmo andare a One è molto bello che è vicino al forte di Bard ok hanno appena fatto dunque c'è stato un incidente c'è stato un incidente quindi si sono battuti dentro e quindi non si sono fatti male ma il caldo dà la testa allora ragazzi noi abbiamo preso la nostra frutta e verdura abbiamo pagato sui 35 euro e abbiamo preso un sacco di roba fai vedere dietro quante borse abbiamo abbiamo tre borse di roba aspettate allora quelle lì uno due e tre è piena 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 e adesso abbiamo preso due unguri così una ce la portiamo a casa ma quelle baby perché ovviamente noi un unguri in terra andrebbe male e invece una la portiamo da mamma e papà visto che stiamo andando là a prendere un caffè portiamo dentro tutta la roba perché sennò poverina marcisce e poi ci mangiamo un augurietta ecco un modo per risparmiare è fare la spesa di frutta e verdura dai frutti vendoli è vero è più uno sbattimento andarseli a cercare però ne guadagni uno in salute e due ci guadagni perché economicamente economicamente più o meno perché qualcuno ti potrà dire beh ma se la compro all'euro spin ad esempio spendo meno aspetta perché io stamattina ho guardato e sinceramente i prezzi si sono alzati è della frutta della verdura anche all'euro spin infatti per questo vi ho alcune cose ho voluto prenderle qua perché cioè mi sembrava un po' così però ad esempio i limoni trovarli non trattati è sempre un casino e quando li trovo al supermercato costano una cucina stamattina abbiamo presi i limoni però li ho presi anche qua in realtà non volevo prenderli qua perché li ho presi però li ho presi che mi è venuto automaticamente da questi qua sono da grattare da prenderli anche così poi hanno un profumo che abbiamo due chili di lipo io quanto li usiamo unica cosa non abbiamo preso tanta frutta perché non c'era tantissimo abbiamo preso le prugne prugne sì buone due pesche perché le pesche erano un po' di quelle dure e a me non piacciono quelle due ridure a parte che non riesco a mangiarle perché già la storia dei miei denti la sapete eccetera faccio un po' fatica e non mi piacciono quindi questo spero che siano buone mi sta vendendo male il collo per questo ho chiuso gli occhi perché ogni tanto mi sembra di essere in un labirinto quindi speriamo che non si trasformi in labirinto questa roba e non è che se ti senti in un labirinto si chiama labirintine si chiama così perché ti disorienta comunque mi hanno preso tante cose abbiamo speso il 35 euro abbiamo preso l'offerta che hanno loro perché vado sempre a guardare sulla pagina cosa esce e avevo visto che c'erano i baby anguri ci sono anche i baby meloni però tu non mi hai detto niente l'ho visto il melone però il melone l'ho mangiato rigorosamente col prosciutto rigorosamente col prosciutto tanto che prosciutto non l'abbiamo preso e io un melone da solo non riesco a scofanarmelo è ferito lo so perdere e invece vi dicevo abbiamo preso l'offerta degli fagiolini che c'erano sia i fagiolini bianchi cioè gialli che quelli verdi e quelli vettivano forse quattro euro no tre euro e qualcosa no tre euro e cinquanta un chino quattro euro c'era l'offerta due chili quattro euro poi comunque nello svuoto la spesa vi diremo meglio e li hanno colti stamattina si vede e anche le zucchine hanno hanno detto che hanno finito alle due di raccogliere tutto il raccolto anche perché lì apre alle quattro e lì e quindi anche quello è bello perché comunque la roba loro la raccolgono giorno per giorno e vede sempre una roba fresca e bella adesso noi metteremo via un po' di un po' di roba un po' di roba perché abbiamo preso un po' di roba un po' di roba in generale abbiamo preso zucchini no vabbè non ve lo dico perché lo vedete poi nel video se no vi spoilerò troppo ve lo spoilerò no va bene no 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 e niente adesso andiamo da mamma e papà vi faccio vedere un po' il paesaggio qua intorno che è bello perché anche qua c'è un po' di erba e ci vediamo qua a casa ciao buongiorno ragazzi oggi è mercoledì non abbiamo girato niente ieri perché non abbiamo fatto niente di che sono pulito a casa e fatto i muffin infatti ve lo farò vedere che carini che sono venuti chi mi segue su istan hanno già li ha visti e sono buonissimi sono fatti con la farina di farro e di segala e cioccolato fondente non vi ho fatto vedere come la facevo perché non sapevo se era buona adesso mi piacciono quindi la prossima volta che li faccio li facciamo insieme adesso andiamo di là con Manuel anzi mi sono dimenticata di farvi vedere siamo andati all'Ikea poi vi raccontiamo cos'è successo abbiamo preso un'altra candela sempre gusto vaniglia però da 40 ore perché l'altra l'aveva già quasi finita poi ne ho presa gusto vaniglia una da 25 ore come l'altra però per mia madre e per noi volevo provare anche questa mi ha fatto vedere Manuel sembra profumata vediamo se profuma come quella però l'ho presa da 25 ore per vedere se ci piacciono adesso andiamo da Manuel che vi raccontiamo una cosa allora ragazze volevo un attimino raccontarvi quello che ci è successo perché ci siamo rimasti un po' così abbiamo fatto una brutta figura nel senso eravamo all'Ikea scusate all'Ikea che dovevano misurare la febbre eravamo in coda e una di voi che ci segue praticamente mi ha detto ciao scusate se sto girato ma sto montando il video mi ha detto ciao e io tutto subito sono rimasta lì perché non riuscivo a capire se era qualcuno che conoscevo oppure no oppure no e quando lei mi fa vi seguo siete bravissimi scusate solo un attimo no quei due l'altro non c'è no sono sempre i soliti io non ho connesso subito quindi poi ho detto ok grazie e non siamo andati avanti perché non ce l'aspettavamo e ci spiace tantissimo perché sembra che non ce ne freghi niente invece ci siamo rimasti male non ce l'aspettavamo perché siamo un canale piccino piccino e quindi mi dispiace se stai guardando questo video mi dispiace la prossima volta se ci vedete diteci subito nome e youtube perché sennò rimaniamo di nuovo un po' sorpresi comunque scrivimi qua sotto chi sei perché mi dispiace non aver salutato non aver fatto magari due chiacchiere mentre eravamo in coda per entrare all'Ikea e scusaci ancora noi adesso stiamo montando un video che deve uscire domani e poi ci vediamo dopo allora ragazzi sto preparando la cena per stasera sono le 4 mi pare e voi direte madonna già adesso sì perché vengono i miei genitori e allora ho deciso di fare un po' di riso e un po' di patate e grazie non mi vengono le parole patate e fagiolini non guardate il casino perché devo mettere a posto abbiamo mangiato poi io ho fatto altro ho messo un po' posto il pc eccetera mi sono persa però la cosa bella del bimbi è che semplicemente si può fare più cotture insieme più cotture nel senso farò il riso avaroma quindi a vapore con anche a vapore le patate e i fagiolini quindi io ho messo vi faccio vedere ho messo il riso qua dentro come vedete poi aspettate qua c'è il riso dicevo ho messo il coperchio vado a mettere i fagiolini e le patate che sono già pulite e le patate sono già anche tagliate vi faccio vedere i fagiolini ok metto tutto qua e faccio cuocere tutto insieme quindi in 20 minuti 20-25 mi va a cuocere sia le patate sia i fagiolini sia il riso così io non accendo il fuoco fa tutto lui e siamo a posto così stasera mangiamo una bella insalata di riso e un'insalata di patate e fagiolini perché fa caldo e non ho voglia di fare chissà che cosa sinceramente farò anche aspettate che vi giro farò anche delle pizzettine credo un po' come fosse un aperitivino e sarà l'unico momento in cui io accendo il forno faccio la pasta brisè ci metto dentro quello che devo metterci salsa eccetera e basta tanto 5-10 minuti e sono pronte quindi adesso io vado ad azionare il bimbi vi faccio vedere come vado ad azionarlo le dico di cuocere 20 minuti intanto il mio si impalla perché tutto avaroma velocità 1 così lui me lo cuoce se non è cotto né il riso né le verdure vado a fare ancora un po' di minuti in caso il riso fosse cotto e le patate i fagiolini no cosa che sarà molto probabile perché i fagiolini ci mettono un po' io entrò a togliere il riso lo metterò da parte e continuerò con la cottura di quello però almeno tutto insieme non c'ho mille padelle eccetera e niente ci vediamo poi dopo allora ragazzi lì c'è l'insalata di riso e qui c'è l'insalata di fagiolini e patate adesso andiamo di là per i saluti insieme a Manuel allora ragazzi come vi ho detto prima è arrivato il momento dei saluti perché questo video è già a già tanto a 27 minutini quindi io spero che questo video vi sia piaciuto siamo stati un po' in giro quindi avete visto un po' tutto per una volta vi abbiamo fatto vedere di più no? sì siamo usciti un po' di più quindi un vlog in macchina praticamente sì c'è tanta macchina e niente i miei genitori non verranno perché purtroppo mia mamma era un po' raffreddata quindi non vogliamo rischiare rischiare non è niente di che credo sia solo più un colpo d'aria dicevo quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi mettete pollicino lasciate commenti mi raccomando sotto qua esatto e mi raccomando basta mi raccomando se ci incontrate diteci che ci seguite su youtube e se abbiamo un'espressione un po' da ebete tipo subito è perché non ce l'aspettiamo sinceramente sì è perché ci avete preso l'astromista quindi noi vi ringraziamo per aver guardato questo video per seguirci tantissimo e ci vediamo poi eccolo qua sabato con un altro video adesso capiremo cosa fare in più a breve faremo la famosa diretta a breve faremo la diretta ma slitta la prossima eh sì posso sì e niente vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 Grazie a tutti.